Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Io continuo a pensare ogni giorno sempre di più perché ne ho sempre conferma che l'umanità vive, è una specie stupida e dannosa per il pianeta che si merita l'estinzione e lo dimostriamo ogni giorno. Allora cosa c'entra questo con il titolo del video? Cioè vi volete mangiare sto benedetto granchio blu? Allora io questa mattina avevo deciso di, è martedì, scaricare il pesce fresco, volevo fare una bella pasta col granchio blu. Volevo provarlo, volevo assaggiarlo, dicono tutti che è buonissimo e viene anche allevato all'estero, in America, insomma nelle sue zone d'origine, proprio per l'alimentazione umana perché è buonissimo, saporito, c'è una buona quantità di polpa. Abbiamo avuto questa sfortuna di trovarcelo nel nostro ambiente, sfortuna perché è definita una specie aliena, c'è una specie all'octona, c'è una specie che viene da fuori, come tutte le specie che viene da fuori, essendo questa estremamente prolifica, non avendo nemici naturali si insedia nel nostro abito e causa grossi danni, in questo caso sta portando praticamente all'estinzione le popolazioni di vongole che sono il loro cibo principale nelle nostre lagune, nei nostri mari. È estremamente prolifica, non ha nemici naturali e quindi si sta diffondendo a macchiatori in tutta Italia, è arrivato anche qui nei litorali laziali e adesso ovviamente se fate il bagno a ostia dovete essere attenti che non vi pinza i piedi e quindi cosa possiamo fare per impedire che si propaghi e che faccia danno all'ambiente perché ogni volta che una specie aliena si propaga, una specie all'octona, non mi piace il termine alieno, parliamo di specie all'octone, si propagano, c'è poco da fare una volta che si è propagata, bisogna cercare di abbassare la popolazione, come possiamo abbassare la popolazione visto che noi siamo una specie che quotidianamente rischia di portare all'estinzione migliaia di specie nel globo perché le cacciamo, perché le peschiamo, perché in sostanza ce le mangiamo, mangiamocelo, mangiamoci sto benedetto granchio blu, è buonissimo, costa poco, mangiamocelo. Ebbene, quello che noi portiamo sulla nostra tavola, quindi le nostre scelte in tutto quello che facciamo nella nostra vita e prima di di tutto nella nostra alimentazione, influiscono direttamente sull'ambiente perché influiscono sul settore agricolo, sul settore dell'allevamento, sul settore della pesca, che sono i settori che tutti insieme, provvedendo all'alimentazione umana, e siamo troppi, e questo è un dato di fatto, impattano per circa un terzo sul pianeta. Quindi le nostre scelte alimentari sono la prima cosa che nella nostra vita impatta sul pianeta. Avremmo l'occasione, mangiandoci il granchio blu, di fare per una volta qualcosa di utile, cioè sia per noi sia per l'ambiente. Primo, mangiamo risparmiando perché costa pochissimo, si attesta il suo prezzo intorno ai 7-8 euro al chilo, stavo vedendo proprio sulla borsa merci del mercato di Milano, sta tra i 4 e i 7 euro, credo che qui a Roma sia più o meno su quei prezzi là, comunque facciamo anche 8 euro al chilo. Praticamente con due granchi avete speso circa 8-10 euro e ci mangiate in due, primo e secondo, perché ci fate una pasta con la polpa, è piatto unico. Ebbene no, io ho girato stamattina 7 pescherie, nessuno ce le aveva. Alla fine mi sono messo a parlare con l'ultimo come mai non ce l'ha nessuno, è perché non si vende, ecco vedi se vuoi c'ho l'astice, 46 euro al chilo, dico scusa ma no, dico no, guarda l'astice non lo voglio, perché volevo col garanchio blu, ma avevo una voglia di assaggiarlo perché costa poco, è buonissimo e ci mangi pure di più. Dice lo so però non si vende, è perché la gente non lo vuole, dice che è sto coso, è strano, viene da fuori. Allora, vogliamo usare il cervello? Viene da fuori? No, non viene da fuori, ormai è di qua, è di qua, eliminiamolo, mangiamocelo, costa poco, è buonissimo, è locale, te lo portano vivo perché appena pescato? No. Però l'astice che viene da fuori a 46 euro, sì, le sogliole straniere a 42-44 euro al chilo, sì, lo vedete che non c'è il cervello, siamo una specie che merita l'estinzione, io non mi stancherò mai di dirlo perché lo rilevo è ogni giorno e quindi mangiamo questo granchio brutto, portiamolo all'estinzione il più possibile, dovremmo mangiare solo quello. Un saluto!